Bentornati a tutti, non siamo morti, Ovalad c'è ancora, c'è stato un leggero ritardo nella pubblicazione, nella registrazione degli episodi, ma tra un altro progetto che purtroppo è stato interrotto, io che devo dare due esami questo mese all'università e non li ho mai dati, quindi ciaone, auguratemi buona fortuna. E' il Damas, l'ambientazione che è cambiata parecchio ed è finalmente definita e specifica, essendo anche il manuale del giocatore quasi pronto, manca solo una piccola redazione, ora possiamo finalmente ricominciare. E prima di andare avanti è giusto, prima di tutto fare un mini riassunto, quantomeno dell'ultimo episodio o forse anche in realtà di quanto è successo fino ad adesso, anche perché essendo questa campagna un playtest ongoing, ci saranno dei cambiamenti e da questo episodio ce ne sarà già qualcuno, soprattutto nel mio stile perché mi sono reso conto di cose che vanno migliorate. Quello che sappiamo è che Tasha, il personaggio giocato da Alessia, è appunto figlia di un importante diplomatico del Regno del Fulmine di Eldamash, un regno che sta al sud, che fa della sua ricchezza la sua capacità di ottenere rapporti politici di vantaggio con altri regni. Il Regno del Fulmine ha ripreso i contatti con le terre perdute che possiedono nel loro terreno un minerale molto particolare, che è particolarmente affine a quella che è la magia, in specie al modo quella del Fulmine, quindi può attuare da catalizzatore e da contenitore stesso per la magia. Tasha, nei suoi studi da piccolo ingegnere pazzo, per così dire, si è resa conto di queste potenzialità e sta appunto iniziato a sviluppare nuove tecnologie, tra cui anche armi per il governo del Fulmine. Tasha è quindi partita per una missione diplomatica, dato che le colonie delle terre perdute sono in difficoltà, soprattutto a livello di risorse, in quanto a parte il minerale le terre perdute sono una sorta di tundra, un deserto ghiacciato, un luogo molto freddo infatti. Ed è stata accompagnata da una vecchia amica d'infanzia, Kaleva, che è la rappresentante, la figlia della matriarca delle tribù centrali, è una figura particolare per una Dream, un ragazzo molto giovane rispetto alle due, di appena 19 anni, che ha avuto una vita turbolenta in quei pochissimi anni che ha vissuto. Solo che durante il loro tragitto i ragazzi si sono imbattuti in quella che è stata una razzia di cacciatori arranti, che sono individui che sono stati espulsi dalle tribù per via di comportamenti o atti, in specie a modo sacrileghi, di solito, più che comportamentali di crimini, quindi sacrileghi contro la religione, si sono imbattuti in questo gruppo e sono alla fine stati circondati. Qui Tasha ha scoperto che le sue armi, o quantomeno un'arma che lei aveva creato di tipo magico, che potremmo assimilare al nostro fucile, al nostro moschetto, è stata ottenuta da parte di questi cacciatori e lei non ha mai detto niente a nessuno se non a suo padre. Per quanto il funzionamento sia palesemente diverso, sia qualcosa di meccanico, non di magico, l'arma in mano ai cacciatori arranti. Kalev è stata gravemente ferita, ha ricevuto un proiettile infatti, un proiettile in vecchio stile, quindi tanti frammenti di proiettile in realtà. Ed è stata curata da un abile medico dell'acqua, che Tasha ha scoperto essere tenuto prigioniero dai cacciatori arranti. I ragazzi poi sono stati vendati e chiusi in un carro, portati non sanno dove in realtà, in un accampamento di dimensioni abbastanza grandi, nel quale Alessia ha interloquito con uno dei massimi capi dei cacciatori arranti, quello che è il secondo vice in assoluto, che, disclaimer necessario, era presente nel prologo della serie. È appunto l'uomo alto e magro che chiede al capo supremo dei cacciatori arranti se sia il caso di seguire la misteriosa ragazza, dicendo che saranno il freddo i lupi a ucciderla. Durante questo colloquio succede qualcosa di particolare, più che altro ce ne si rende conto solo alla fine. L'ambiente interno alla tenda muta. Alessia ha capito cos'era accaduto, ma chi è esterno all'ambientazione probabilmente non l'ha potuto fare. Da questo scambio di battute si sono capite due cose. Prima di tutto questo vice possiede il potere dell'ombra, la magia dell'ombra, che è legata alla mente e ai sensi. Però rarissimi individui, si possono contare in tutta la storia di Eldamas sulle dita delle mani, hanno un potere molto pericoloso sia per gli altri che per se stessi, che è appunto quello di entrare a contatto con la mente di un altro. Questo avviene unendo le due menti, entrano in un vero e proprio colloquio interno. Questo cosa comporta? Che durante una discussione in questo stato, la persona con cui si parla non può mentirci, perché la mente non può mentire. Ma la cosa è reciproca. Anche chi utilizza l'incantesimo non può mentire, perché è mente a contatto con un'altra mente. Quindi sappiamo una cosa. Tascia ha provato a mentire, ma per forza il nostro vice sa che non ha mentito, sa che stava mentendo, quindi ha retto al gioco. Ed è vero che abbia retto al gioco, perché non poteva mentire a sua volta. Ma, essendo esperto, ha cercato di non parlare di determinati argomenti, tenendosi chiuso senza mentire su altri. Quindi sappiamo anche che il padre di Tascia, in cerca di vendetta nei confronti del Regno del Fulmine, che lo ha relegato in questa colonia sperduta, e che lo tratta come un diplomatico di classe B, ha venduto i progetti di sua figlia, a sua insaputa, al Regno dell'Acqua, che è alleato dei cacciatori arranti, perché è un regno dedito alla guerra, dedito all'attività militare, perché desidera rovesciare il governo mondiale. Quindi questo può considerarsi un dato di fatto. Tascia si è trovata in questa situazione. Scusate. Tascia si è trovata in questa situazione. E in tutto questo, durante il tragitto, Tascia era una dream. Sono entrati in contatto, cozzando anche su determinate ideologie, chi è portato da un amore per il progresso, verso il miglioramento dell'umanità, chi invece verso una tradizione millenaria, che non ha mai tradito le aspettative. Quindi due identità e due storie culturali, entrate a muso duro l'una contro l'altra, per così dire. E appena sono giunti, si è vista la paura di Luna Dream. E di come si è capito che Luna Dream si è cresciuto tra i cacciatori erranti, da ragazzino molto piccolo. E appena è arrivato, è stato portato in un luogo diverso la Tascia, dove a quanto pare sta venendo torturato, perché parli nei confronti della sua perduta sorella. Questa è la situazione attuale. E appunto riprenderemo esattamente da dove ci siamo interrotti, Alessia. Quindi dopo questo interrogatorio, mi facesti un venti naturale per cercare di individuare la situazione. E appunto, Tascia ne ha sentito parlare di questo potere dell'ombra, di questo potere temibile, ma anche estremamente raro. E tu ti rendi conto che o sei stata vittima di un'illusione molto potente, e allo stesso tempo poco evidente, oppure quest'uomo ha il potere di entrare nella mente delle persone. Tu non ne conosci bene il funzionamento come Tascia, sai solo che possono leggerti nella mente. Quindi ti rendi conto di questo mentre vieni condotta fuori. E se ti ricordi, inizi a nevicare quando poni il tuo primo passo fuori dalla tenda. In sottofondo senti ancora le urla di Luna Dream. in sottofondo senti ancora la domanda. Sì. Lui mi aveva detto avevamo trattato per il rilascio però la non morte di Luna Dream. Possibile? Sì. Ok. Era il tuo parlare, l'hai fatto, quindi sei un uomo di parola non ammazzerà Luna Dream. Però lo sento ancora ora. ovviamente avete letteralmente appena finito il colloquio e lui era lì con te. Dag è il tempo di uscire dalla tenda, non so se mi spiego. Ok. Ok, no, era solo per ricordare sia me che gli spettatori. E anche appunto per la liberazione di Kaleva che è prigioniera e lei è una figura importante nelle tribù centrali. però lei aveva già capito che non potevano farla fuori sostanzialmente o comunque non gli conveniva. L'essere quello che è lei le ha salvato la vita. Altrimenti l'avrebbero lasciata morire nella neve per così dire. Quello che intanto vorrei appena esco... Vorrei descriverti l'accampamento un attimo. Esatto, esatto. Le ho chiediti proprio questo. È in realtà in una maniera solo apparente disordinato perché tu sei abituata alla vista delle cittadine e delle terre perdute dove tutte le case sono circolari e a causa della vostra influenza hanno sviluppato sistemi podameo per così dire. Essendo questo un accampamento e quindi è volatile nomade si adatta al terreno a quello che serve le tende sono disposte relativamente a caso però in quattro settori definiti. È come appunto ci fossero le classiche due vie romane degli accampamenti in cui in questo momento non mi ricordo anche se teoricamente sto studiando latino però non me le ricordo esistono due grandi vie che attraverso la maniera perpendicolare l'una all'altra l'accampamento piuttosto libere però all'interno di questi quattro quartieri le tende sono un disastro sono ben montate si vede che è gente abituata a viaggiare ma non sono organizzate in un modo specifico al centro dell'accampamento sta un focolare molto grande troppo grande nel senso non ha un'utilità nell'essere così grande quindi non riesce a capire il perché forse ha un qualche scopo rituale forse ha un scopo di segnalazione forse c'è qualche altro accampamento nei dintorni e le tende sono di dimensioni variabili però sono tutte tonde e non sono tende di fortuna non sono le classiche tende che vediamo nei film dove ci sono i quattro bastoncini e il telo no si tratta di tende circolari di dimensioni abbastanza ampie vedi poca gente in giro a parte le due guardie che ti stanno portando vedi forse qualche soldato non vedi lupi almeno non all'interno dell'accampamento e dal sole capisci che il tramonto sarà nei prossimi minuti quindi sta arrivando la notte ok e loro mi stanno portando verso una specifica tenda che può essere quella dei prigionieri piuttosto che non so oppure allora ti descrivo direttamente il tragitto ok non fai molta strada in realtà quando i due uomini ti portano all'esterno girano immediatamente verso destra tu non sai in questo momento quali sono i punti cardinali ma avendo il sole di fronte puoi pensare che sia all'ovest no sono stupido siamo a sud puoi pensare che sia all'est no sono ancora più stupido è l'ovest è l'ovest perché tramonta l'ovest magari su l'eldomast è diverso cosa ne sapevo no non è diverso sono abbastanza basic quindi appena esci dalla tenda la tenda è rivolta a ovest questo lo puoi capire dal sole ti dirigi a destra le guanti non ti stanno tenendo però hai ancora le mani legate cioè loro ti stanno diciamo facendo da navigatore ok verso quella che alla fine non è una tenda capisci che non sono abituati ad avere ospiti i cacciatori arranti perché non esiste una tenda né degli ospiti né dei prigionieri perché per quanto tu sappia l'unico prigioniero oltre a te è il fantomatico medico dell'acqua ti portano in quella che è una casupola se proprio vogliamo essere simpatici nei confronti del rudere in cui ti portano dentro si tratta infatti di tronchi di legno umidi e vecchi visibilmente accatastati in modo da formare una nemmeno una cupola una cima di piramide con un'entrata a drappo all'interno della quale sta un palo che l'attraverso in tutta l'altezza piantato al terreno fino alla cima loro senza dire una parola ti legano a questo palo le mani legate vengono messe al di là del palo e vieni legata all'interno di questo palo e ti lasciano lì uscendo o ti ritrovi all'interno di questa casupola che è assolutamente vuota non c'è nulla all'interno e c'è piuttosto freddo mi legano con delle corde o corde corde ok non hanno catene però sono legata ad un palo allora non sono strette le corde non è che ti impediscono di girare intorno al palo o di alzarti abbassarti però a meno che tu non sappia attraversare gli oggetti sei legata lì dentro ok vorrei prendere vorrei cercare di anche magari alzandomi non lo so di prendere se possibile la lima che mi ero infilata nei pantaloni ti ricordi dov'è? il fatto è che l'avevi infilata nei pantaloni non so se te lo ricordi davanti non dietro l'avevi infilata diciamo nella zona inquine cioè tecnicamente è raggiungibile però potrebbe essere piuttosto complicato dietro perché che senso ha però vabbè suoi andiamo a guardare la registrazione io ho i miei appunti le avevo messi in fronte ok devo tirare una possibile tattica e scuotersi molto forte sperando che cada per te se no provare a vedere appunto se riesce a farla uscire vabbè voglio provare allora ok allora devi farmi un tiro io ti direi su acrobazia perché è qualcosa che richiede movimenti particolari quindi non esiste liberarsi da catene e altre cose quindi e non è tanto una questione di forza perché non non ti impedisce il movimento dei poli quindi strezza giusto sì ok perfetto per quanto non ti impedisca di muoverti il dover avere le mani dietro la schiena e cercare di arrivare alla tasca diventa piuttosto complicato il fatto è che mentre stai cercando di fare questo dannatissimo movimento la tenda a drappo si apre e il runadrim viene lanciato all'interno della capanna è legato mani e piedi ed è un disastro vedi chiaramente che ha delle ferite sul volto piuttosto profonde e forse sulla guancia un'ustione anche le mani sono forse gli hanno strappato delle unghie le mani sono insanguinate e anche il volto oltre alle ferite che ha già è assolutamente pieno di lividi graffi ha un occhio nero dall'altro perde sangue dall'occhio e respira con molta difficoltà quindi posso lanciando runadrim comunque le stesse due guardie che ti hanno portato dentro vengono portano una stuoia anzi due stuoie qui evidentemente potete stendervi e vedi che si stanno attrezzando per accendere un fuoco non vogliono farvi morire di freddo almeno questa cosa c'è dai a parlo a queste guardie sperando che conoscano il comune evidentemente esatto state preparando per noi queste stuoie allora da loro ignorarti capisci che o hanno capito e ti stanno ignorando oppure non hanno capito e di conseguenza ti ignorano allora dovete capire che in questo momento Tasha ve lo spiego proprio a parole semplici è molto tiltata da tutta questa situazione tipo quando ti stilano una penta su lol quindi come stracazzo dovrei riuscire a stendermi con le mani legate potete almeno sciogliermi così aiuto il mio amico mi fai un persuasione va bene ok hai preso la loro attenzione però i ragazzi hanno fatto tre in comprensione della lingua quindi non hanno capito un cazzo se parafrasando in metodo narrativo si fermano ti ascoltano ed è evidente che il comune non lo sanno si scambiano un paio di parole ed escono dalla terra no assoluta li faccio aspettate fermi cerco di mimare che il problema sono le mie cazzo di mani che non riesco wow allora non si fermano e ti dirò fra un paio di minuti tornerà qualcuno per così dire questo è un pezzo da tagliare arriverà qualcuno quindi hai questo un paio di minuti non sapevo come dirlo e altre cose anzi secondo me è il caso se li facciamo direttamente no tranqui al tuo tentare di imbimare il problema le guardie non si girano ed escono dalla tenda senza dire altro oltre a quello che si sono scambiati te sei da sola con un runa dream messo piuttosto male non so che cazzo fare perché l'unica opzione sarebbe quella di tentare di togliersi il palo è proprio piantato nel terreno dal profondo giusto profondo più che altro anche non lo fosse il problema è che è collegato cioè è allo stesso tempo colonna portante della casupola quindi non fosse anche piantato in maniera profonda dove si è portati dietro la capannetta quindi posso notare se runa dream è cosciente se può parlare se invece è proprio morto cioè proprio distrutto allora non ti sembra morente ok però è stato appena torturato non riesce a muoversi insomma respira ha acquisito un po' di regolarità però probabilmente è anche sconvolto non sai bene come funzionano le torture da queste parti nel regno del fulmine sono state bandite tanti secoli fa le torture tanti non è una cosa usuale per te e infatti posso dire che ti dà anche un forte fastidio vedere che esiste ancora la tortura in questi luoghi che malgrado quello che avete fatto per portare un po' di civiltà c'è ancora questa barbarie per così dire e per quanto ci fosse stato una sorta di litigio ideologico fra voi due su una dream ti ha dato una mano diverse volte si è dimostrato un compagno di viaggio utile vi ha appena vi ha anche salvato la vita da un certo punto di vista rivelando l'identità di Kaleva e negoziando con i cacciatori erranti per quanto non è che siete in una bella situazione però vi ha salvato la vita ti destabilizza un pochino vederlo in questo stato anche perché ti ricordi non sarebbe nemmeno adulto nel rigno del fulmine dove l'età adulta si raggiunge a 21 anni per te è ancora un ragazzino per quanto sia 20-30 cm più alto di te però è ancora un ragazzino io voglio a tutti i costi liberarmi di queste cazzo di manette quindi provo a non so come ci sono per terra cosa cosa c'è come dicevo prima è assolutamente vuoto a parte le due stuoie che hanno portato le guardie però mentre osservi la tenda il drappo si scosta di nuovo e vedi altre due persone entrare con una barella sono i due uomini assistenti del medico ti ricordi appena entrano sulla barella li conosci sulla barella riconosci che leva non ti sembra messa male non è pallida non è sta dormendo alla fine dopo questi uomini entra il medico si che vedi che alla vista di una dream è interdetto un attimo non è che a qualcuno piaccia vedere qualcuno torturato però evidentemente ci è rimasto male anche lui i due uomini del medico i due uomini poggiano che leva a terra e fanno per uscire ma il medico li ferma gli dice qualcosa noti con un accento un po' strano ovviamente non è un nativo nella lingua appunto dei cacciatori erranti e questi due quello che fanno è avvicinarsi a te e ti perquisiscono ok ma hanno fatto fallimento critico quindi non trovano la lima ti perquisiscono vedi che non è gente abituata a farlo infatti fanno qualcosa di molto standard un po' come si vede nei film d'azione dove non trovano mai niente nei film d'azione e dopo essersi appunto girati a riferire evidentemente al medico quello che fanno è cambiare il modo in cui sei legata ovvero ti legano un piede cambiando corda al palo mettono una corda molto più spessa ti liberano le mani però appunto sei legata al piede a questo palo in modo che tu possa muoverti per la stanza con una relativa libertà ma non sei nemmeno lontanamente vicino al drappo per uscire d'accordo diciamo che puoi girare in tondo fino a impazzire nella tenda adesso e hai le mani libere appena hanno fatto questo escono e il medico si lancia immediatamente su una dream appena e due escono per cercare di capire cosa è successo per fare quello che deve fare più di che gli fa i classici controlli controlla se respira se ha ostruzioni se ha ferite che necessitano cure immediate e inizia a curarlo con la sua magia di nuovo lo vedi all'opera però qua vedi che di nuovo si trattiene non può curare del tutto una dream probabilmente non per capacità ma perché rischia sa che una dream è un nemico di questi uomini e lui è prigioniero non può riservargli un trattamento di favore quello che fa è un soprattutto sul volto cerca di rimediare a quello che ha sul volto cicatrizza l'ustione che però rimane come cicatrice cura i tagli e i lividi quello che fa sulle mani però non è far ricrescere le unghie per quanto tu sappia che sia possibile ma fermare le emorragie e basta ed ha uno sguardo un po' desolato quando fa questo io lo so che potrebbe aiutarlo di più si l'hai visto estrarre dei proiettili in maniera chirurgica in un luogo poco adatto fermare l'emorragia ma allo stesso tempo non ha ferite mortali o comunque ferite gravi Luna Dream non ha ferite gravi ha ferite dolorose ok perché è così che tu non ne sei avezza appunto sì 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 però puoi capire che la tortura serve a tenerti in vita anche quindi le ferite che ti fanno non sono puntate a ucciderti ma a farti un male terribile ok anzi forse hanno calcato un po' la mano sapendo di avere un medico così abile perché le ustioni spesso facevano infezioni ai tempi ed infatti la prima cosa che ha curato il medico è stata ustione quindi Tasha scopre anche che la magia dell'acqua ha dei gradi nel senso potrebbe persino farle scomparire le cicatrici ma l'ha lasciata la cicatrice ed è sul volto io me ne accorgo cioè Tasha se ne accorge quindi di questa cosa sì ok diciamo che è abbastanza un libro aperto questo medico ok allora mi avvicino e gli chiedo mentre sta facendo questo gli chiedo posso aiutarti in qualche modo tipo trasportarlo sulla sua oia non so lui si gira ti guarda sta per parlare e ritornano due uomini con del cibo e delle brocche d'acqua del cibo in vassoi di legno e anche le brocche sono in legno ok non ve le hanno date in ceramica perché appunto temono che le rompiate e possiate usarle come strumenti ve le hanno date in legno e le posano e le posano a terra e aspettano il medico all'interno della tenda che finisca il suo lavoro e devi farmi un tiro su intuizione che è saggezza porca troia yes gli mortacci suoi perfetto lui ti fa un no impercettibile i suoi due alla fine anche cani da guardia perché non sono solo assistenti lo controllano non lo notano però tu non riesci a capire a cosa si sia riferito e quindi lui si alza ed esce dalla tenda i tiri di merda che bello vero? e io allora cerco di capire dato che adesso posso muovermi cerco di capire dovevamo dire risultati dei tiri tuoi vabbè li metto anche a schermo non c'è problema ok e il viso di Luna Dream adesso è visibilmente meno sofferenza ok però è cosciente insomma potrebbe mangiare eccetera o è proprio addormentato morto svenuto non è svenuto però probabilmente addormentato shock insomma ok esatto ok Kalevo invece sta proprio dormendo tranquilla per così dire certo ha un braccio e una gamba steccate perché non gliele hanno curate perché sono dei geni bastardi però è stabile respira tranquillamente tasto tasto la fronte a entrambi perché vorrei insomma capire se Luna Dream ha la febbre e se vabbè Kaleva suppongo di no però controllo comunque Kaleva Kaleva cioè è come quando te ti rompi una gamba ti rompi il cazzo però per il resto stai abbastanza bene Runa Dream probabilmente gli sta salendo la febbre non perché abbia preso freddo altre cose non per infezioni perché sai che il medico le ha curate ma per lo shock quando si ricevono determinati trattamenti senza averli mai fatti un esempio per quanto non mi piace prenderlo fuori perché non mi piace l'opera in Tokyo Ghoul il personaggio Kaneki viene torturato i capelli diventano bianchi è possibile come cosa quindi lo shock a volte si manifesta in modo fisico anche appunto con la febbre quindi vorrei portarlo sulla stoia non ci hanno dato delle come si dice delle delle pezze o delle cose solo acqua e cibo esatto e una cosa che mi sono dimenticato di dirti è stato acceso un piccolo focolare all'interno della casupole si sta un attimino riscaldando l'ambiente se vuoi spostare Luna Dream è appeso morto quindi dovrei farmi un tiro di forza e ti avverto che è un big boy quindi proviamoci tanto non è che abbiamo molto da fare 17 ok perfetto finally finally allora è pesante comunque Luna Dream cioè riesci a spostarlo però è una fatica te non sei esattamente una lavatrice di fatica e poi sei anche stanca adesso che c'è un momento di calma ti rendi conto di quanto tu sia stanca hai viaggiato tutto il giorno hai avuto anche stress mentale da quello che è accaduto hai avuto un attimo di momento da sola per così dire perché hai due mezzi morti nella stanza ti rendi conto che sei stanca anche tu metti Luna Dream sulla stuoia a fatica e a meno che tu non voglia fare altro io ti manderei a Nan e l'ultima cosa che voglio fare Luna Dream ha sto pensando se parlo oppure no vabbè no niente allora dormo anch'io sì 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 perfetto e la notte passa per tua fortuna per tua fortuna una di quelle notti senza sogni fortuna o sfortuna dipende da come vuoi vederla vieni svegliata da rumori nell'accampamento dai rumori classici di un accampamento che si risveglia in realtà gente che cammina qualcuno che parla all'esterno della tenda è abbastanza scuro comunque puoi capire che è l'alba sono le primissime luci dell'alba perché qua la notte è assolutamente buia però vedi della luce quindi e della luce statica quindi è naturale è mattina prestissimo e vedi che il fuoco ormai è prossimo a morire si sta spegnendo e vedi che Kaleva è vigile si è seduta appoggiandosi alla parete della della casupola per così dire ha uno sguardo lievemente incazzato proprio tu conosci Kaleva e quando esterna la sua incazzatura vuol dire che è molto incazzata e sta è appunto vigile come di guardia nei confronti dell'uscita della della tenda non si accorda che ti sei svegliata io mi tiro anche che sta come con una specie di rosario in mano sta pregando Kaleva ok nella lingua delle delle tribù centrali io mi tiro su sempre anch'io seduta e nel mentre le dico perché cazzo è attaccato quel cacciatore capisci appena dice questa cosa che Kaleva probabilmente da un qualche ora che sta pensando alla stronzata che ha fatto non ti guarda ma forse perché si vergogna e vedi che non sa cosa dire però hai capito che ha capito ok allora se posso se più che il master se il laccio che ho al piede me lo consente vado da lei e l'abbraccio e le dico basta l'abbraccio e basta ah no ok va bene poi mi risiedo e le dico il fucile con cui ti hanno sparato mio padre ha venduto la tecnologia notavo comunque come Tasha è molto back to business dalle fusione di affetto e poi torno subito a parlare di stronzi certo assolutamente no allora il tuo abbraccio stupisce Kaleva non è che siete abituate a grandi fusioni di affetto fisico per così dire perché tu sei una diplomatica che crede nella politica e nei diritti lei invece è una guerriera una cacciatrice questo scambio di affettività così aperto l'ha un po' stupita l'ha riportata per così dire lì dove siete in questo momento quando parli di tuo padre non casca dalle nuvole probabilmente c'era già arrivata perché lei sapeva della tua arma l'avevi già mostrata l'avevate usata in una salute di caccia quello che le senti dire e capisci che probabilmente la gola secca perché fai un po' fatica ad ambulare senza stampelle con una gamba un braccio rotto non me lo sarei mai aspettato lo dice proprio palesemente deluso ah deluso invece ok ormai siamo qui vedi che anch'io sono quello che vede Kaleva è una tascia che palesemente trattiene le bestemmie erodio verso suo padre in questo momento e cerca di essere il più realista possibile ormai ormai siamo qui dobbiamo capire come cazzo andarci nel sicurezza mi piace mi piace pensare che tuo padre sia stato costretto lo dice lei sempre guardando verso il fuori lei non ha assistito alla tua conversazione quindi mio padre è un cazzo di politico esattamente come tutti gli altri del nostro paese eri sempre sembrata fiera delle tue origini e qua proprio si gira smette di guardare verso il drappo e ti guarda con il suo bellissimo ma disarmante sguardo agghiacciante con i suoi occhi chiarissimi ci sono cose che non sapevo mi ha usata come fanno quelli del nostro paese quindi ci sono altre cose che non sapevi e mi dispiace non avertele dette prima capisci subito che si sta riferendo a runa dream eccetera 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 e a lei che è in viaggio con me perché non ok deve farsi cazzi suoi alla fine queste sono cose che comprendo hanno una motivazione mio padre la sua unica motivazione era la vendetta nei confronti di un popolo che non gli ha dato abbastanza ok cazzo aveva una figlia e proprio nel farlo mi sto torturando le mani aveva una figlia aveva una cazzo di casa aveva uno scopo un popolo da proteggere un popolo da far progredire da mandare avanti non solo parentesi del master un popolo che vi aveva accolti con molta apertura era quello che intendeva cioè non eravate solo colonizzatori ormai vi consideravano membri a qualcuno non lo ammetteva ma alla fine venivate trattati come tali nel senso aveva aveva una casa insomma una nuova casa ma non gli bastava a quanto pare agli umani non basta mai niente e lo dice forse con troppa coscienza come se non è la prima volta che accada una cosa del genere nella sua vita non fosse la prima volta ho ucciso l'italiano perdonami tranquilli comunque sia sappi che quello che vedi è un'illusione me intendo io provo a toccarla tipo in che senso la tocchi ok e quindi non te l'ho mai detto ma io sono un mago dell'ombra oltre che del vento so che a voi del nord non piace sapere di questo potere quindi non non te l'ho mai detto il proiettile non mi ha colpito ho creato un'immagine illusoria vi ho seguiti da lontano ho recuperato scelca e i cavalli sono non troppo distante dall'accampamento ma non posso assolutamente togliere queste immagini illusorie altrimenti se ne accorgerebbero sono incolume e molto incazzata non c'è tipo non è per niente destabilizzata da sta cosa del mago dell'ombra perché ormai ne ha viste di tutti i colori vaffanculo e oltretutto non ha pregiudizi di quel tipo anzi è molto tipo ah a bad bitch my friend quindi sorrido e annuisco molto sorpresa ma allo stesso tempo very proud of my baby come dovremmo muoverci proprio trattenendo il sorriso ok wow non penso che lui possa essere d'aiuto lo dicevo non c'è non verso una dream non nel breve periodo quanto meno cosa hai fatto in questo periodo in cui non eravamo insieme cosa è successo aspetta lei ci ha lasciato da quando è andata a colpire da quando sì esatto alla fine da quel momento lì quindi lei probabilmente ha assistito alla vostra ha assistito alla vostra cattura vi ha seguiti però non è che era lì non sa che discorsi hai fatto non sa dove eri non sa dove fossi Samuel l'italiano io le racconto quello che ho quello di cui ho parlato con il capo tutto allora aspetta ripercorriamo un attimo allora abbiamo parlato del fatto del tradimento di mio padre del fatto che il regno dell'acqua sta preparando una guerra insieme ai cacciofriorranti e tu hai detto che possiedete un'arma spettacolare stramega figa cercando di mentirli palesemente non tanto in realtà gli dici che forse hai capito che quello lì è centrale nella testa delle persone sì quello sicuro non no le dico tutto volevo non dirle della guerra della guerra maglia le dico tutto dice qualcosa nella lingua delle tribù centrali però è un non ne capisci il significato nel senso qualcosa lo mastichi ovviamente delle tribù centrali che ci sei nata e cresciuta però queste mie delle tale sopra no la loro lingua è molto musicale potreste assimilarla a quella degli indiani d'america quindi molto similare molto che cazzo ho detto molto musicale molto fluida con pochi suoni duri quello che dice non sembra nemmeno umanamente fattibile perché è molto gutturale con molte g e c proprio un'affermazione che è proprio per sua natura incazzata ok questa è mia no allora capisci che è una parola singola ok ok e appunto non l'hai mai sentita né la parola nello specifico né questo tipo di sonorità non l'hai mai sentita cioè è una cosa strada tu non hai mai capito la lingua d'accordo però l'hai sentita la gente parlare un'affermazione particolare beh sapi questo se veramente quell'uomo sa entrare nella mente sa che gli hai mentito ma allo stesso tempo lui non può averti mentito ok diciamo che gli ho mentito ma quest'arma potrebbe essere qualcosa di fattibile ho mentito perché volevo che credesse che esistesse già però forse è per questo che non che ha che ha preso parte al gioco sapeva che non avevi quest'arma ma sapeva che non è impossibile vedendo i pensieri ce ne sarà reso conto ma non posso sapere se crede che io possa costruirla o meno quindi lui di sicuro ha capito che non sia un idiota i progetti sa che sono tuoi ha capito che tu non escludi la possibilità che sia fattibile essendo tu l'inventrice di questa tecnologia penso che tenga conto della tua opinione al riguardo volevate portare la pace avete portato la rovina dice proprio lo dice senza accusa io fisso il vuoto e dico papà non è solo tuo padre e qua lo dice cambiando tono perché hai costruito delle armi per cosa sarebbero dovute essere usate secondo te siamo stati tutti ingenui secondo me tutto questo era pianificato fin dall'inizio com'è che lo chiamate voi scusa doppio gioco aspetta le armi non ti piacciono fin quando non sono usate da te per difenderti e dal tuo popolo per difendersi le armi non sono sbagliate in sé dipende da chi le usa le balliste le balliste come che si chiamavano quelle cose che sparavano le frecce giganti capisci che non conosci la terminologia non hanno armi d'assedio di certo non ci saremmo difesi con quelle l'hai detto anche tu ma con i fucili sì il problema dei cacciatori erranti sarebbe svanito con qualche tiratore bravo qua lei si incazza dice sì d'accordo il fucile nello specifico però hai costruito armi su ordine del tuo popolo ma io le armi le avevo costruite due in mano l'arma avevi fatto il fucile e la ballista due le avevo costruite mica cioè mica avevo creato un'azionale cioè nel senso no però ho creato i progetti ma erano progetti personali non dovevano andare nelle mani sbagliate ed è qui che io sono sono un inventrice non sono una soldatessa non sono una cazzo di politica non più quindi i miei progetti dovevano rimanere miei non dovevano uscire dai miei confini e questo è anche in ogni caso hai creato armi hai creato armi pensate per la conquista l'assedio non dico che l'hai fatto con malizia ma sei stata ingenua come tutti noi ti dà ragione ti hanno sfruttato ti hanno usato un dono può portare anche la rovina e qua capisci che forse è un detto proprio delle terre perdute quindi adesso cosa facciamo dobbiamo distruggere quei progetti saranno già nel regno dell'acqua che cazzo e dobbiamo cacciarvi da queste terre dovete andarvene e non tornare mai più dobbiamo tornare ad essere le terre perdute come ci chiamate voi i nostri mondi non sono compatibili abbiamo fuggito il progresso anche per questo le vostre terre sono nate sul sangue sulla divisione e queste sulla pace e la concordia come adesso tra voi cacciatori adanti no queste sono rimaste come erano i tempi sappiamo che a nord ci sono terre verdi è più facile si può coltivare c'è più ricchezza c'è più oro ma noi non siamo quelle sette tribù e qua ti si accende una lampadina noi siamo l'ottava tribù quella che è rimasta io sono anche d'accordo con il lasciare queste terre ma il danno ormai è stato fatto le armi sono nelle mani dei cacciatori come pensi di poter risolvere questo problema sarà guerra ok ma la tecnologia rimarrà su questa terra e nelle vostre terre chi se ne occuperà come pensate di vincere vi serve il nostro aiuto poi dobbiamo distruggere i progetti e tutti i prototipi una persona che ha visto il funzionamento e che ne conosce anche solo la metà di quanto ne conosco io e qui Master mi si è stato dicendo una cazzata potrebbe replicare diciamo che sei quanto ne sappia tu sei la prima che abbia provato a controllare il flusso magico della no però a livello come fucile meccanico una persona che conosce un po' potrebbe riprodurlo assolutamente meccanicamente sì le baliste in realtà sono armi che esistono da un bel po' semplicemente tu le hai rese magiche le hai rese molto più potenti di prima molto allora le dico il fucile che è sotto reso meccanico ormai è replicabile da chiunque ne conosca anche la metà di quanto ne conosco io distruggere i progetti non servirà molto beh un modo c'è in realtà questa fantomatica arma potrebbe essere un deterrente a tenervi fuori da qui ovvero se mettete piede qua useremo l'arma dovrei costruirne un'altra ok non capisco come questo risolve il problema dei fucili nelle mani dei cacciatori non lo risolverà però avendo questa così potente questo strumento così potente penso che i cacciatori terranno le mani a basse quindi dovrò inventarmi qualcosa suppongo è l'unica cosa oppure sterminarli tutti preferisco minacciare di farlo piuttosto che farlo davvero quindi devo iniziare oddio prima di pensare a componenti e come fare questa cosa come cazzo usciamo di qui vedi che in realtà lei continua a pensare al problema e dice forse dovremmo far scomparire la pietra niente più pietra niente più armi magiche sono d'accordo è dura da dire ma sono d'accordo la pietra è stato il mio problema più grosso la cosa che mi ha fatto più rimanere attaccata alla creazione di quelle armi quindi oddio il fucile meccanico è comunque potente se ti avesse preso l'avresti saputo gli spiriti hanno volontà propria non mi stupisce che le cose non siano andate come volevi pensavi che fosse solo un sasso magico quello che avevi in mano io la guardo palesemente tipo spiriti what the fuck e le dico proprio spiriti certo che si secondo te come fa a essere una pietra magica non ha la carne non ha il sangue come potrebbe avere magia ci sono creature non pensavo avesse la magia pensavo la incanalasse e la potenziasse non funziona così ci sono creature che pur non essendo umane posseggono la magia fa il culo Samuele allora l'origine è nel loro spirito questa è una magia diversa sì è una magia diversa è una magia che non conosciamo è una magia che prende forma nel fulmine ma è una magia di tipo diverso da quanto sai queste cose da sempre perché cazzo non mi hai fermata perché pensavamo che fosse uno spirito buono quello all'interno di quella pietra oh cazzo quindi non la conosceva in enti per voi vendetta non conoscevate neanche voi lo spirito più che altro a noi non ha mai fatto nulla ma evidentemente cerca vendetta cerca di liberarsi o forse di morire le pietre quando le odie si esauriscono no? dopo un po' sì cazzo è magia degli spiriti odia rimanere chiuso in un luogo ferma preferisce morire piuttosto che rimanere dov'è cazzo ok ho una lima nascosta lui è Marco vedi lei che è proprio tipo e lei la domanda tipo è questo cosa c'entra con la pietra di Kirweb perché l'abbiamo avendo tornata come cazzo usciamo da qui perché questo qua è tutto molto bello però dobbiamo uscire per poter parlare nel senso io ho una lima nascosta lui è ancora ascioccato e forse anche la febbre non non ho le mie armi nei componenti non ho niente niente dovrei aspettare qualche giorno io studierò i turni di guardia i luoghi da cui è possibile muoversi dall'esterno ovviamente e ti riferirò ok dovrei aspettare qualche giorno e stare al loro gioco una domanda come fai a mantenere un'illusione di questo tipo la magia di queste terre non è la stessa che avete voi fucking copy what the fuck it's from the DLC ragazzi no vabbè io sono abbastanza interdetta ripensando a tutto ciò che mi ha detto e al fatto che me lo stai dicendo attraverso un'illusione di se stessa che ha mantenuto per qualcosa tipo un sacco di ore ok anche dopo aver subito danni esatto quanto pensi di poterla mantenere ancora questa cosa illusione finché non sono costretta ad utilizzare altri incantesimi posso mantenerla attiva fino a che non desidero noi non abbiamo un limite in questo lampadina runadrim ti disse questa cosa non hanno loro non hanno un'affinità che si consuma tascia dice quindi runadrim aveva ragione è un pessimo bugiardo runadrim io non l'ho ancora detto che lui mi ha parlato delle nebbie delle cazzate questa sorella comunque so perché l'hanno torturato e mi ha parlato delle nebbie mi ha parlato degli spiriti delle cazzate e io non gli ho creduto bella merda non è mio ruolo creder farti fare in modo che tu creda quello che ti ha detto saranno i fatti a parlare qua vedi che non è che lo dice con la rassegnazione di povero ateo bastardo lo dice proprio con un capisco che possa essere troppo strano per te ok io so che sono cose vere ok e dato che lo sono sono convinta che si dimostreranno vere anche a te ok non sto qua a farti le le filippiche sul fatto che siano vere a lei è molto più pratica su queste cose e poi ti conosce sa che questo tipo di discorsi non ti entusiasmano quindi ti dice così ma se è vero dovremmo trovare sua sorella proteggerla non so c'è anche questo effettivamente wow sto pensando di mobilitare le tribù io e te dovremmo occuparci di questa cosa sulle armi il runadrim e tutto il resto dovrebbero cercare la sorella perduta una domanda ti ricordi alla al tuo background della primissima campagna chi incontrasti? background della primissima campagna incontrai riguardo i cavalieri dell'equilibrio mio maestro e sarai esatto sì te l'ho chiesto perché non mi ricordavo un paio di cose ok come diventicarsi best background devono trovare sarai ok davvero non mi ricordavo il nome te l'ho chiesto per quello ok ok io devo ancora capire se sarai è il nome che danno allo spirito o è il nome che danno al corpo perché sei il nome che danno al corpo tu sei una pezza un pezzo di merda proprio proprio gigantesco cosa cazzo vuol dire? eh 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 sarai è il nome sì la sorella di lunadrin si chiama sarai dove pensi aspetta lei l'avevano cercato avevano cercato di prenderla però era scappata giusto? evidentemente sì credi che lui potrebbe essere molto difficile trovarla sarai è ricettacolo del mondo della volontà del mondo lo spirito dentro di lei è molto potente piuttosto imprevedibile non è detto che lei abbia il controllo di quello che ha dentro questo coincide con quello che mi aveva detto runadrin ma perché runadrin mi pare mi avesse detto che era ricettacolo della magia sì è coincide perché nelle terre perdute lo spirito del mondo è la magia ok ok sono solo due nomi diversi ok ok non pensi che effettivamente hai detto anche tu che forse potrebbe non avere il controllo tu non hai idea di che poteri ha quello spirito sì questo me l'ha già detto runadrin potrebbe essere dal livello della tua fantomatica arma senza alcun problema non so ancora quale il livello quale sia il livello della mia arma distruggere un intero regno sbaragliare un esercito il problema è che quest'arma io l'avevo l'ho in questo momento mentre riflettevamo sulla questione e anche mentre riflettevo parlando con il capo l'avevo pensata come un'enorme esplosione magica ma questo comporterebbe l'utilizzo della pietra il che non so se sia possibile dato quello che mi hai detto degli spiriti e delle cose della volontà non mi sembra un'ottima idea unire tanti frammenti di un'entità divisa esatto quello che pensavo anch'io quindi non ho idea di come creare quest'arma così potente da sbaragliare un intero legno questo penseremo quando sarà il tempo anche perché forse se riusciamo a salvare sarai avremo la nostra arma e qua è un po' bruttino da dire così è è un po' bruttino da dire così ok wait a minute what ok quindi adesso è giorno ci sono svegliate quindi è giorno ormai il sole è sorto tranquillamente ok 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 credo che il nostro amico medico potrebbe aiutarci anche lui è prigioniero mi ha fatto un segno prima ma non ho capito esattamente a cosa si riferisse è del regno dell'acqua sì questo l'ho capito potrebbe essere una spia ma a me è sembrato abbastanza anche tuo padre sembrava abbastanza sincero fai quello che credi io volevo solo metterti questo dubbio cautela non lo escludo ma cautela quello che a cui avevo pensato io era fare in modo che lui aspetta quando ti ha curato o meglio ha curato la tua illusione non ha capito che se ne è accorto perfetto quindi penso che nelle prossime ore scopriremo se siamo nella merda oppure no non avendo parlato fino ad ora penso che non lo farà o forse non è un medico abbastanza abile da rendersene conto no non è capace quello che avevo pensato era fare in modo che lui curasse del tutto la tua illusione in modo da non destare sospetti per quanto riguarda la tua presenza più o meno diciamo che mi ha lasciato così apposta volevano assicurarsi che non fosse in grado di fuggire ma io potrei letteralmente volerlo e tutto questo sparirebbe certo quindi io non ho il problema a fuggire una possibilità ma non mi piace l'idea è che io vada a chiamare rinforzi no pensavo di usare pensavo di usare lui e la tua copia come un diversivo però non so in che senso convincerlo a curarti e in qualche modo portare la tua illusione al centro dell'attenzione per poi puff non so se è così che funziona potrebbe funzionare l'unica cosa è che io e questo fa così siamo collegati ho sentito il dolore di quello sparo e ho sentito la gamba e il braccio rompersi è stato molto difficile mantenerla attiva in quei momenti non ho subito danni ma ho sentito lo stesso dolore se mi attaccassero in determinati modi potrei non reggere non conosci la magia dell'ombra e qua te lo chiede proprio allora il regno dell'ombra c'è ancora abbastanza sano e abbastanza pericoloso nel senso ma noi siamo alleati in teoria in guerra in questa guerra siete alleati col popolo dell'ombra quindi o ammette di essere una povera nerda chiusa in un laboratorio ammetto che sono una povera nerda che vengo alla porta aspetta un secondo sto ragionando su quello che mi avete detto entrambi voi qui avete comunque i poteri legati ai nostri vostri nostri dei anche qui è così raro essere diciamo un multi elemento come li chiamiamo noi una volta no una volta era strano nascere con un elemento solo molto strano da qualche anno ormai da dalla mia generazione i nati hanno sempre più raramente meno di un elemento magico meno di due elementi magici ma fino a qualche secolo fa 4 era la media anche io sono tipo eh perché per noi multi elemento di quel livello cioè nel senso li state facendo ne avete raggiunti di 4 a quanto tu sappia siete arrivati anche a 5 non nel regno del fulmine ma nel regno della luce siete arrivati a 5 mai a 6 e ovviamente mai a 7 però è un qualcosa che c'è è stato calcolato per generazioni ed è stato statisticamente molto sculato riuscire ad arrivare a 5 se 4 qua era la media cazzo vuol dire che queste sono delle genetiche interessanti oppure qualcos'altro le mortacci il meta no se te lo dico spoiler gigantesco non posso lo saprei a gennaio più o meno no dipende in realtà quindi dallo sviluppo della trama no perché Tasha ha sempre pensato come tutti quelli del suo emisfero che i poteri venissero trasmessi in linea genetica a seconda della proveniente della componente genetica legata ad una nazione o comunque da un territorio a un'etnia a un'etnia ecco meglio quindi ed è così quindi sì quindi però per lei vedere gente con gli stessi poteri anche a molti elemento al di fuori con origine che non c'entra un cazzo con Eldamas ha detto noi non siamo quelle sette tribù esatto siete umani tutti e tutti quindi evidentemente qualcosa di comune c'è gli fa la questa tascia che parla la vostra magia viene dagli dèi o sicura di voler iniziare questo discorso potrebbe volerci un pochino hai detto che abbiamo un paio di giorni da aspettare quindi detta in breve diciamo che siamo il popolo prediletto di un dio ok un dio per amore di un altro ci creò ok donandoci questo potere un potere che nasce dal sangue sì ok qualcuno si è distanziato da dal favore di quel dio e ha cessato quel dio di essere così misericordioso e ci ha abbandonati non è per caso che siamo sempre meno molti elemento ma non esiste da quando i figli di zarath se ne sono andati da quando le sette tribù se ne sono andate ma da quella guerra da quando le nebbie sono nate ma zarath non non poteva darvi tutti gli elementi lei è la dea dell'ombra sì è la dea dell'ombra quindi nessuno ha detto che è stata zarath a creare gli umani come scusa trascinati in realtà per voi voi sapete che gli umani sono nati e lo zampino di zarath è stato mettere il male nel loro cuore molto poeticamente parlando ok quindi non sapete chi ha fatto nascere gli umani quindi voi conoscete l'origine dell'uomo tasha è molto molto perplessa cioè non molto nel senso non perplessa però non super convinta di quello che le sta dicendo però cerca di capire noi sappiamo che fumo creati per amore a zarath come dono per zarath da un'entità che non è zarath esatto ma quando zarath ha portato la rovina questa entità ci ha abbandonato distrutta dal dolore ok credo che credo di dover riflettere su tutto quello che mi hai detto tu non ne avrai bisogno ma provo a dar da mangiare al ragazzone va bene caleva che ti dici riguardo questa entità noi sappiamo che è stata silein a crearci per amore a sua madre zarath possiede lo spirito la mente ma non poteva creare la carne e silein lo ha fatto quando sua madre venne rinchiusa distrutta dal dolore e la ci abbandonò e da zarath della vita nacque la morte e la desolazione le grandi nebbie da silein madre della vita nacque la morte che prima non esisteva prima non morivano le persone solo se venivano uccise prima non esisteva malattia non esisteva vecchiaia quanto tempo fa questo prima che le sette tribù ci abbandonassero è stata quella guerra che ha portato all'esilio di zarath alla nostra diaspora e a silein che abbandonò queste terre un tempo rigogliose ora una landa di ghiaccio perché il cuore della dea si è ghiacciato tasha abbastanza un attimo perplessa da tutte queste informazioni deve un attimo processare quindi le dico ascolta e rifletterò un attimo su quello che mi hai detto tanto avremo tempo per andare avanti con la questione prova a far mangiare il ragazzone una cosa per gli una cosa per gli spettatori la cosmo il normale pantheon di eldamas prevede che non si sa come siano nati gli uomini che li abbiano creati in qualche modo gli dei tutti insieme e che poi zarath abbia dato loro il male qua kaleva sta completamente distruggendo tutte le abitudini religiose per quanto tasha non fosse particolarmente legata comunque in cui tasha fosse cresciuta per lei zarath aveva fatto classica storiella qua kaleva sta dicendo zarath ha creato lo spirito intero degli uomini e silein la dea dell'acqua ne ha creato il corpo quindi in realtà per chi è un credente questa cosa è un'eresia enorme perché sta dicendo che gli dei sono nati dalla dea che ha portato la rovina degli uomini quindi tasha non è particolarmente colpita ma se kaleva avesse fatto questi discorsi a qualcun altro avrebbe rischiato non è una cosa così comune e tasha che reagisce in modo così calmo e tranquillo ecco una dream ti sembra stabile in ogni caso potresti provare a svegliarlo sì tranquillamente sì provo a svegliarlo ovviamente non con la secchiata d'acqua in faccia però pianino con calma e vedo se si sveglia allora si sveglia e di sopra salto bene proprio spalanca gli occhi rigidissimo e si guarda intorno molto spaventato ok vedo che ha paura del contatto fisico oppure no no non parla però ha visto che ci sei tu e sembra essersi calmato un attimo ok allora lo abbraccio piano nel senso non voglio saltargli addosso però lo abbraccio tipo di conforto leggermente e gli dico devo farti mangiare qualcosa vedi che prova a mettersi seduto ma non ci riesce troppo debole noi la la stuoia non è vicina ad un muro giusto si si ok allora provo io di forza a tirarlo su per farlo tipo abbracciare sulla schiena al muro allora non ti faccio tirare perché non è appeso morto c'è semplicemente da solo non ci riesce e vedi che si guarda le mani un po' catatonico gli hanno strappato le unghie non è che si tocca la cicatrice sull'ustione e continua a guardare dritto di fronte a sé cazzo e prendo informazione di gameplay luna dream è in status sconvolto in questo momento quindi svantaggio nei tiri su intuizione e percezione e nei tiri salvezza su saggezza voglio provare a fargli mangiare qualcosa a farlo bere a farlo soprattutto bere qualcosa acqua ovviamente e intanto gli spiego la situazione con Kaleva diciamo in modo non voglio dato che è giorno suppongo non voglio parlare ad alta voce di cose così per onestas voglio capire se lui sa che non si trova qui Kaleva veramente no non lo sa ok ci rimane anche di merda un pochino però vedi che è anche sollevato beve avidamente gli chiedo conosci i suoi poteri ha la voce un po' rocca non beve da un bel po' no non sapevo avesse il potere dell'ombra ok ci siamo tutti quanti i denti troppo poco e lo dice proprio cercando di sistemarsi un attimo d'ora in poi dovremmo essere un po' più aperti sono d'accordo sempre che ci sarà un poi ci sarà questo non te lo posso promettere ma ti posso promettere anzi ti posso dire che sono abbastanza incazzata più di quanto sia mai stata quindi ce la metterò tutta gli hai detto anche di tutto il tuo discorso con non ancora ok quindi lui non sa di tuo padre ad esempio esatto anche perché mio padre ci ha traditi e gli spiego la situazione con con le delle armi insomma della di quello che ci siamo detti anche con Kaleva del fatto che dovremmo far diciamo andare via i popoli del 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 continente e provare a salvaguardare quello che è rimasto delle terre perdute con una fantomatica arma che io sono in panico perché non so come cazzo costruire ebbene diciamo che l'hai visto sconvolgerci quando hai detto che le armi le hai create tu è rimasto cioè non è che non ti abbia seguito ma ti guarda spaventato quelle armi le hai create tu erano progetti personali altamente rischiosi altamente segreti che mio padre hanno già un'arma dove dica ondeggia un pochino hanno salito il villaggio il mio villaggio hanno già un'arma come scoppia ne hanno già una come 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 fai a saperlo cosa cosa il mio villaggio lo hanno distrutto così lo vedi proprio che si sta sta avendo una crisi di panico ok ok come come era fatta come io non l'ho vista respira ho visto l'esplosione da lontano l'elettricità si è liberata anche nel ghiaccio ha distrutto il fianco di una montagna l'elettricità hanno già un'arma sì era magia della furmine non non lo so ce l'hanno già guardo Kaleva e le chiedo chi cazzo ha accesso alla pietra solo mio padre e io autorizzato sì non possiamo controllare tutte le miniere noi non siamo disposti in tutte le terre perdute quello che vedono loro è una tascia vedi runadrim ceda il panico che è proprio incazzata si tiene la testa fra le mani le bandiere il triangolo d'oro io so qualcosa è il simbolo del regno del fulmine dio porco da vedi so no vogliamo questa cosa il fuoco cazzo no no hanno fatto cadere la pioggia prima non pioveva da un sacco di tempo tutto questo poi hanno sparato quella cosa nel cielo sono morti tutti subito non c'era più niente non c'era più niente non c'era più niente e continua a dirlo io mi alzo e a costa di prendere i punti ferita do una testata al palo che c'è in mezzo alla stanza ok perché sono proprio proprio berserker modalità non lo so perfetto subisci i quattro danni ti tiro una bella botta ok dopodiché torno da da runadrim provo non ad abbracciarlo perché so che magari non è la cosa più giusta da fare però a farlo ritornare adesso nel senso a confortarlo si riprende abbastanza per rendersi conto di qualcos'altro sarai se la prendono potranno fare anche di peggio devo trovarla e vedi che fa per alzarsi ma non ci riesce cade per terra ok 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 ci siamo già detti con Kaleva che la troveremo sarà una delle nostre priorità in questo momento dobbiamo capire come cazzo andarcene sei troppo debole lo vedi che si sgonfia si arrende si arrende all'evidenza ma da un certo punto di vista sta peggio di prima è provato fisicamente però gli è riportato alla mente dei ricordi che aveva un po' abbissato ma tutto questo io ho capito se l'ha visto in una visione no lui ti aveva detto che aveva trovato il suo villaggio distrutto non ti aveva detto che aveva visto da lontano quel massacro ok lui ha detto hanno fatto piovere ok pochi sono quelli che possono far piovere se non quelli dell'acqua ok ok per bagnare tutto e poi hanno sganciato una bomba di elettricità che ha però c'era lo strenado del regno del fulmine esattamente io voglio avvicinare possono fare il doppio gioco Alessia non solo le persone anche i governi certo un bel terreno di prova voglio avvicinarmi il più possibile all'uscita e chiamare a gran voce quel figlio di puttana del capo ok cadia a puntino perché appena chiami in realtà si discosta il drappo che vi separa dall'esterno e lo vedi in arrivo con due guardie si appoggia un bastone per camminare è visibilmente molto provato sembra che non solo non abbia dormito ma sembra indebolito oh buongiorno perché cazzo non mi hai detto perché cazzo non mi hai detto che hanno già invaso il nord non l'hanno invaso mi avvicino e faccio provo non 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 minacciosa però con fare minaccioso cioè non voglio colpirlo ma mi avvicino provo avvicinarmi il più possibile anche tirando la corda non so le guardie non reagiscono perché sanno che sei legata e lui dice abbiamo solo unito l'utile al dilettevole ci serviva quella ragazza e così abbiamo testato una nuova tecnologia io metto a ridere gli dico avete fatto accordi con il regno del fulmi il regno dell'acqua e voi siete qui che cazzo vi fa pensare che poi vi faranno quello che volete voi o che manterranno gli accordi o che non mi posso nemmeno fidare di te se è per quello tascia o forse dovrei chiamarti rungrid come scusa come scusa sono entrato nella tua mente non mi chiamo tu non sei tascia come non sei solo tascia di che cazzo stai parlando sono in te una joanna una rungrid è qualcuno che non riesco a capire non era per l'arma che ti ho tenuto qui tu sei un mistero più di un'entità è dentro di te nello stesso momento oppure in un luogo diverso oppure nello stesso luogo in un tempo diverso non riesco a capirlo allora non posso fidarmi di te tascia non me ne frega un cazzo non voglio tirare intuizione di niente tascia non gliene frega un cazzo non si beve niente pensa che stia belefando come come un coglione ascolta non me ne frega un cazzo delle entità e di quello che c'è in me del mistero che sono io voglio parlarti della situazione adesso e adesso io i miei piani non sono tenuto a parlartene si dà il caso che i tuoi piani facciano cacare perché gente la tua gente si dà il caso che tu sia legata a un palo e che io possa farti ammazzare immediatamente sarebbe molto utile ti ho lasciato viva sarebbe molto utile e non scopriresti mai il tuo mistero e inoltre la tua gente la tua gente sta morendo a cazzo di cane per niente perché voi da questo non avrete niente niente non avrete niente non è la mia gente non è la mia gente le terre perdute non sono la tua gente solo un manipolo di cazzo di erranti siamo un altro popolo ci hanno esiliati non ci volevano fra di noi giusto giusto ah ok ve l'ho detto sono pieno di alleati con chi sta al tuo regno in questa guerra con l'ombra esattamente ma a quanto pare ne hai appena elencato un altro e pensi che in tre non ti inculeranno dato che siete una manica di certo ma sono alleato del popolo con la nazione militare più forte del mondo del popolo più temuto del mondo e del popolo che per i soldi farebbe qualsiasi cosa io ho i soldi io ho le miniere loro dipendono da me ok dato che sono già qui cosa ti fa pensare che tra qualche giorno mese anno tu gli servirai ancora solo perché sai entrare nella mente delle persone avrò sarai sei così ne sei così sicuro sarà molto più potente di quell'arma certo che si non è difficile tracciare uno spirito magico e sei sicuro che la terrai tu la terrai soprattutto sotto controllo lo spirito che contiene lo terrai sotto controllo tu non posso solo entrare nelle menti posso anche comandarle non è facile ma sono in grado di farlo e Sarai è una povera ragazzina di 11 anni è piuttosto fragile ok ti vedo convinto quindi io ti vedo infuriata cosa è successo cosa è successo non capisco che parte vuoi prendere in tutto questo perché vuoi darmi dei consigli su come agire ho quasi ammazzato una tua amica e ho torturato un altro dei due ti ho rapito ti ho rivelato che tuo padre ti ha tradito il tuo popolo ti ha tradito e non capisco che parte tu voglia prendere in tutto questo io non ho nessuna parte in tutto questo io ho la mia parte e la mia parte si rifiuta di utilizzare anzi di concedere tecnologia che cose che erano mie di diritto per fare cose di cui su cui io non ho la portata erano tue ma i fondi chi li dava nessuno verrai anche dal nord verrai anche dal nord ma sei abbastanza ingenua ragazzina le risorse non nascevano dal niente era il fulmine a darvele tuo padre aveva questi accordi da anni non è un caso che ti abbia relegato in un laboratorio a lavorare a quello che ti abbia lasciato fare questo che ti abbia aiutato che ti abbia sostenuto lui puntava a farti creare quelle armi da tempo da prima che veniste mandati qua il regno del fulmine ha scoperto la pietra di Giluef eeeh ah ah voglio colpirlo eh ma lui cioè lui è fuori portata ci puoi provare ma è fuori portata fuori portata la merda beh puoi sparare una magia niente te lo vieto peace and love no voglio voglio allungarmi per cercare di prenderlo dal colletto è possibile però non so se sono troppo lontano cioè se è proprio lontano lontano se è a metà via diciamo che è esattamente quella distanza per infastidirti perché avessi tre centimetri di movimento in più lo prenderesti diciamo che ha raggio di sputo però quello si che incantesimo aspetta in realtà non hai niente di range eh lo so hai tocco statico danza della tempesta e avvertimento mortacci suoi ah là dietro come stiamo signorina Kaleva tutto a posto Kaleva non risponde è sconvolta quanto te sulla cosa poi l'uomo mantenendosi sul raggio esterno in modo che tu non lo possa raggiungere va a dare una dream ben svegliato mi ha un po' deluso sapere che tu effettivamente non conosca la posizione di tua sorella e non hai nessuna utilità però sono magnanimo ti concederò un'esecuzione e un funerale degno di un cacciatore errante per quanto tu ci abbia traditi fare un modo che gli spiriti ti accolgano nel loro regno e che tu non venga semplicemente dato alle fiamme hai qualche ora preparati aspetta non erano questi gli accordi figlio di puttana non mi sei più utile ho capito che non hai intenzione di essere mia alleata e il tuo mistero per quanto interessante non ho tempo di sondarlo morirai insieme a tutte le altre dentro di te non sei l'unica inventrice gli è bastato dare una piccola spinta tu hai scoperto l'origine ma altri poi hanno capito come lavorarci sopra buona fortuna con la ragazzina tanto sono una ragazzina giusto è una ragazzina con un potere immenso ne sono ben conscio però non lo sa controllare se ne fosse stata in grado avrebbe potuto annullare quell'esplosione ti ricordi Luna Dream e lo dice proprio con la classica cosa da fare il tac per scaturire nei mentalmente un po' fragili dei processi però tua sorella non ci è riuscita non li sa usare quei poteri e non è la prima potrei insegnaglielo io ci vuole poco a ingannare un bambino ti è bastato poco per ingannare te si gira e si avvia verso l'uscita ah sì una cosa hai avuto successo ci hai costretto ad accelerare i tempi consegneremo Kaleva decapitata dalle tribù centrali e si avvia verso la sua tenda io guardo Kaleva e tipo bene 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 spiegami perché cazzo questo tizio che mi è entrato nella testa non riesce a capire che sei un'illusione perché perché non è entrato nella mia di testa poi l'hai visto è debole è successo qualcosa quando pensi che non sono loro devono accelerare i loro piani dobbiamo farlo anche noi non abbiamo tempo io ho sempre quella lì ma ti consiglio di cominciare ok che facciamo con Runodrim è ancora asciuccato non possiamo lasciarlo qui forse potremmo no 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 non lo dice sorridendo sono io da master bastardo credo no non sembra entusiasta dell'idea no no non lascerò nessun altro indietro siamo venuti per te siamo scesi per te quindi ora non lo lasciamo in fondo è stata l'origine di tanti problemi cosa lui è per lui che ci hanno presi non erano interessati né a me né a te se lui muore ok non sa dove si trova sua sorella però quello che doveva da dire me l'ha già detto le nebbie si stanno espandendo e io gli credo non ti ha detto lui è sopravvissuto le nebbie certo altrimenti non sarebbe potuto essere un guardiano non c'è bisogno di questi guardiani qualunque sia il loro vero ruolo loro controllano i confini ci è già stato riferito che si stanno espandendo il suo ruolo l'ha avuto non può combattere contro questo mi abbasso su runa nemmeno a me piace l'idea mi abbasso su runa dream e gli dico io voglio voglio portarti fuori di qui ma so che suona da stronza e non è un bel momento ma devi aiutarci devi reagire altrimenti non riusciremo ad andarcene insieme forse sarebbe meglio se ve ne andaste lo dice anche lui non sono in grado di fuggire non riesco a correre non ce la faccio faccio fatica a stare in piedi tascia ma abbiamo un cavallo però quanto meno delle cure mediche per potermi muovere no no ci serve ci serve quel fottuto medico ci serve quel fottuto medico dell'acqua come cazzo senti che leva che si alza e le sue ossa non sono rotte nel senso cammina posso andarlo a cercare così certo che no ma così e il suo aspetto cambia diventa un cacciatore errante abbastanza standard all'improvviso posso darti il compito di tenerli fuori dalla tenda per un pochino quello si spero di non metterci troppo ok 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 illusione ok vai si ok d'accordo io al posto della della branda metto tipo no non c'è niente non c'è andato coperte vero no porca puttana vabbè ok niente voglio fare tipo un manichino lì così beh spero che ci rivedremo non abbiamo il permesso di morire qui lo dice proprio con molta energia ed esce dalla dalla casupola io vorrei fare due cose nel mentre vorrei dato che sono corde quelle con cui mi hanno legato ok vorrei mantenere il diciamo il cerchio che c'è attorno al mio piede ok tagliare appena sopra e diciamo legare con un nodo abbastanza cioè facilmente poi scioglibile per far finta di essere sempre legata però con un nodo che è molto più scioglibile molto più facilmente all'occorrenza ok puoi farlo non ti faccio tirare però ci vorrà qualche minuto perché è una corda grossa così e te c'hai una lima quindi certo ok dopo aver fatto questo la brocca che ci hanno dato è di legno giusto sì ok io non ho niente con me non ho la pietra non ho un cazzo avevi la lima e basta perché lo zaino non ce l'hai sì sì che c'è la balestra quella con la rete elettrica giusto per dargli un'altra cosa da copiare niente faccio questo e tascia me lo dice una dream una cosa la posso fare mi serviva che che leva non ci fosse ok io non sono proprio un dimenticato ho potere qui non è esattamente ben visto insomma ok è legato al sangue di portacce posso trasferire dell'energia vitale ok potrei farlo anche tra te e me sì ok wow tipo cura dell'acqua però magia del sangue magia del sangue e senti che lo dice proprio così sperando che tu non reagisca male ok io sono un attimo perplessa tu conosci la magia del sangue conosco è dei racconti antichi come al solito sembra una cosa perduta proibita pericolosissima disumana ok voi voi ragazzi siete molto strani comunque cosa comporterebbe diciamo per elevare da me e portare a te del sangue o magia non è proprio sangue diciamo che dovremmo ferirci entrambi ma io sono a posto ok e se mi ferisco io tu potresti trasferire e curarti potrei indebolire leggermente te per rinforzare un pochino me stesso ok perfetto quanti HP ti vanno allora per HP mi so abbastanza bene diciamo che è proprio una questione di debolezza ok e uscire dallo stato sconvolto anche immagino esattamente esattamente quanti HP ti servirebbero per rinforzarlo un pochino io direi 5 ok easy quindi te vuoi farlo yes ti vuoi sottoporre a un rituale del sangue yes d'accordo non so non ho la minima di che cazzo comporti poi però devi ferirti in qualche modo in modo da far uscire sangue ok 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 beh ho la lima vuoi limarti il braccio fino a che non esce sangue non ha nient'altro cioè no vabbè lo accetto dubito che tu voglia prendere la testata e il palo finché non ti apri una ferita cioè puoi anche morderti nel senso cioè piuttosto che ho pensato esattamente quello puoi darti anche un morso oddio un morso però sì fa meno male di una limata a sangue nel senso farsi così finché non esce sangue è un po' ti tiri un morso la Eren Jaeger e ti esce un po' di sangue e ci sei ok runa dream provvede si morde ok a sangue allora mi mordo anch'io a sangue cioè lo ibito ok ti togli un hp questa cosa perché è difficile mordersi a sangue coscientemente ok e boh gli porgo la mano dove mi sono morse gli dico fai quello che devi fare lui ti prende la mano subito senti come se andassi in anemia boom ti indebolisce all'improvviso non in maniera da svenire ma ti senti un attimo calo di zuccheri però succede un'altra cosa mentre ti tiene la mano una catena verde luminosa appare e lega il tuo polso al suo no vaffanculo non lo volevo io giuro sulla mia vita che proteggerò te questo mondo cosa? ok cosa scendo aiuto è un giuramento di sangue tu sai bene cosa sono i giuramenti di sangue amico ascolate hanno mai spiegato tipo il consenso nelle cose infatti sarà un giuramento a metà afferra la catena e la spezza io ora sono legato a te ma tu non lo sei ok in questo modo ti assicuro la mia lealtà e vedi che si rialza ah ok non serviva nel senso è una cosa che troppi colpi nella schiena volevo darti almeno una certezza su cui puntare l'abbraccio caro ok non gli dico caro 19 anni e due palle così signori allora vi spiego il giuramento di sangue è una tecnica estremamente antica praticamente si pone qualcosa sul piatto della bilancia per così dire che se non si rispetta il giuramento si perderà e lui ha giurato sulla sua vita di proteggere lei e il mondo questo significa che se farà diversamente morirà e non c'è modo per spezzare un giuramento di sangue è legato fino alla fine dei suoi giorni sono un mezzo patrò quindi è una scelta è una scelta di vita grossa molto grossa e lei sa adesso che lui non la potrà tradire altrimenti morirà non potrà voltarle le spalle non potrà abbandonarla altrimenti morirà e che dovrà pensare al bene del mondo è un onore grandissimo anche perché è un giuramento a metà che nemmeno lei si riconosceva praticamente lui si è sottomesso per così dire lei non ha nulla da dare nulla da perdere lui ha abbandonato se stesso a questa cosa che lo abbia fatto perché si è disperato perché ci crede o perché sono tutte e due bisognerà scoprirlo quando hai fatto questa cosa un povero corpo viene lanciato con abbastanza violenza all'interno della tenda ok è uno sconvolto medico dell'acqua e vedi che ritorna Kaleva che mentre apre il drappo riprende l'aspetto di Kaleva ok bene è qui tu che ci fai in piedi vado a chiedere una dream speranza speranza risponde lui proprio chattissimo io guardo il tizio il medico che è a terra suppongo lo prendo dal collettoro tiro su lo appoggia alla parete e gli dico allora se sei una fottuta sfia ti ammazzo ok sei una fottuta sfia ti ammazzo e a noi servono cure e devi aiutarci a uscire di qui tutto chiaro posso venire con voi è tranquillissimo sì questa è l'unica condizione però se sei una fottuta spia ti ammazzo ti ammazziamo non sono una spia sono qui perché sono un traditore un traditore stavo andando al continente ad avvertire gli altri regni ero in generale dell'acqua un tempo ok inside check vuoi scoprire se ti sta mentendo ok tira sì sono abbastanza facciamo senza caccare 10 ti sembra abbastanza convinto ok anche perché sai che sull'onore cioè sono dei pezzi di merda quelli dell'acqua ma sull'onore del proprio ruolo soprattutto militare difficilmente mentono ho scoperto i piani del mio popolo e sono ero andato ero partito per avvertire il resto del continente non sei l'unica che si è presa pugnalata nella schiena beh strano proprio tu non siete voi i più razzisti del cazzo la mia cultura è razzista non io detto questo ti tocca e ti senti rinata è una cosa istantanea ti sei già stata curata da dei medici dell'acqua ma non in maniera così rapida e non in maniera così efficace sei full vita fa la stessa cosa a runa dream anche il morso ti si rimargina tutto quindi guarda kaleva a te non servono cure tu dove sei in questo momento chiedo a kaleva poco distante da qui a nord cosa cosa proponiamo non so nemmeno in che direzione dovremmo andare cosa facciamo quando usciamo da qua perché non penso che ci lasceranno andare così dal niente dovremmo fuggire dove potremmo andare a est dice il medico il guardo il medico gli chiedo avevi contatti nel continente o qui avevo contatti e come però i confini del continente adesso dopo anche quello che è successo nelle ultime ore sono piuttosto serrati potremmo andare a est il governo ha mascherato la mia scomparsa con una mia caduta in battaglia se mi ripresentassi ufficialmente non potrebbero uccidermi dovrebbero trovare un modo per farlo e avremmo qualche giorno di sicurezza con il regno dell'acqua con le truppe del regno dell'acqua sì sono ancora un generale e come spiegheresti noi mi avete aiutato ero stato catturato in fondo non è così diverso dalla realtà e ora una volta che siamo lì che cazzo come facciamo cosa dove andiamo da lì decideremo che fare intanto ci serve un luogo sicuro sì certo sarebbe anche andare in bocca al nemico da un certo punto di vista io vi ho dato un'opzione tornare indietro e guardo Kaleva è rischioso soprattutto per il tuo popolo non voglio per questo anche andare avanti purtroppo se come hai detto tu vogliamo distruggere i piani e tutto quello che hanno dobbiamo avvicinarci a loro quindi io io ve lo dico il mio regno è un posto di merda no non dubito ah hai contatti in qualche altro regno magari non lo so il regno della terra il regno della luce il regno del vento i contatti che avevo erano la zanna nera sono stati loro a consegnarmi i cacciatori erranti pensavo agissero in nome del bene comune e per loro il bene comune evidentemente è il genocidio siamo soli e trovare alleati è rischioso qui soprattutto l'unico regno che mi venga in mente sono quelli della terra del fuoco della luce del vento problema a sud ci sono solo acqua e fuoco fulmine dovremmo comunque attraversarli e qual è il posto migliore per trovare una nave? un accampamento del regno dell'acqua esattamente ok 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 si è tutti d'accordo? luna dream non dice nulla vabbè luna dream ormai sono la sua moglie quindi caleva caleva vedi che sta soppesando le alternative ma non ne vede una migliore beh se siete d'accordo direi che possiamo andare ok mi serve la mia attrezzatura anche a me se volete un diversivo quindi devo recuperare la mia armi e la mia armatura so dove le tengono si non puoi trasformarti tipo in qualcosa di più piccolo come un gioco io? lo chiede il medico no 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 a Kaleva potrei anche sì perché? ah no hai detto che sai già dove sono le robe niente scherzone il medico lo sa sì sì infatti però potresti di nuovo fingerti malata e necessitare di cure potrei giustificare il fatto che almeno tu sia uscito dalla tenda gli altri due potrebbero invece seguirci da distanza ok ma dove mi porteresti? di sicuro non dove tengono le armi per curarmi no però l'armeria e l'infermeria non sono tanto distanti ok quindi io mi fengo no parlava Kaleva che poteva tornare e fare la ah ok giusto allora ok va bene guardo Runadrim per dirgli come dirgli sei pronto sì sono pronto il generale cioè il generale il medico che si è rivelato essere un generale beh è stato un piacere a proposito mi chiamo Silad Silad tipo nella mano sì non è un nome autoctono del regno dell'acqua cioè ti sembra un po' strano un po' occidentale per essere del regno dell'acqua puoi provare a vedere se ti sta mentendo si dai provo ok 13 no non sta mentendo ok ok Kaleva tu avvicinati il più possibile all'accampamento ovviamente senza senza dare nell'occhio e noi attueremo questa cosa vediamo è un po' difficile con tre cavalli e un lupo bianco non dare nell'occhio ma farò ma farò il possibile Silad dice ora che ci penso servirà un cavallo anche a me dovremmo passare anche da lì ok io se mi date abbastanza tempo posso creare anche un diversivo magari un non serve risolverò io si schiocca le mani e nella tenda appaiono delle proiezioni di voi è abbastanza comune da queste parti il potere dell'ombra Tasha ma tu non sei di queste parti dovremmo essere a posto perché tutti quelli che incontro sono oh mio dio ok niente ah perfetto mi sento giusto leggermente ma perché tu non lo sai scusa cosa lo dice guardandoti non lo sai ha detto si non so cosa ne parleremo dopo non hai solo dell'entità nascosta dentro di te oh mio dio ancora con questa storia di che cazzo stai parlando io parlo io parlo per sentito dire per me sei Tasha ok grazie finiamo questa cosa andiamoci andiamoci qui per carità di dio un piccolo aiuto un piccolo aiuto magari potrebbe servire non si sa mai non sei puro sangue te lo dice uno che è un medico e col sangue ci sa lavorare io a sentire questa cosa ho no il dubbio di mia madre sono abbastanza ok non era una cosa che volevo a cui volevo pensare in questo momento ma non c'è solo giustizia in te c'è anche il potere quindi ho capito hai capito parco 2 io sono super contenta perfetto peccato che tu non le abbia sbloccate ok 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 andiamo forza ok e quindi uscite dalla tenda pronti per la vostra fuga dall'accampamento è stata le ultime ore sono state piuttosto difficili ma con una rinata speranza che non è esattamente una speranza ottimista ma una speranza smaniosa di sangue per così dire uscite pronti ad affrontare ben tre regni che minacciano di portare la rovina femenelle sono sicuro Grazie a tutti. Grazie a tutti.